Eccolo qua Andrea, poi abbiamo trovato Edo. Un album di figurine senza calciatori ma con la gente del paese. A Travo ha suscitato grande curiosità e interesse l'iniziativa organizzata dal barrio Caffè che ha fotografato 150 abitanti e li ha trasformati in 5500 figurine da incollare nei 60 album stampati. Le figurine sono a disposizione in edicola, gli album si trovano al bar e sono molto richiesti, a testimonianza del successo dell'iniziativa. Volevamo alleggerire un po' questo 2020, questo Natale 2020 che già è triste, e far tornare un po' bambini i nostri clienti facendo gli scambi delle figurine, andando in edicola e quindi cerchiamo di sdramatizzare un po' questo periodo che già è abbastanza funesto diciamo. Ci stiamo divertendo molto anche noi. Diciamo che negli ultimi mesi ci stavamo un po' annoiando finita l'estate, quindi perché non fare qualcosa per la comunità, per i nostri clienti? L'idea è venuta a noi tutti e due insieme, diciamo che qualche anno fa quando giocavano alla Bobbiese abbiamo fatto una raccolta simile con tutti noi bambini e ragazzini, perché non provarla con i clienti e con i nostri affezionati? Quindi ci siamo messi lì, ci siamo messi a lavorare, a cercare le foto, a spulciare sui social e quant'altro. È nato questo album e a quanto pare alla gente piace, ecco, però i riscontri sono positivi. Purtroppo non è stato possibile fotografare tutti e qualcuno è rimasto fuori, ma gli organizzatori garantiscono che avrà spazio nell'edizione dell'album 2021.